Il cantiere è in corso, è stato aperto durante il nostro primo mandato, dopo dieci anni di lunga attesa. È un palazzo molto complesso, molto prezioso, che ha fatto peraltro emergere nuovi preziosi ritrovamenti, a cominciare dagli affreschi sotto le tappezzerie, sotto le carte da paradi, che le sorintendenze hanno ritenuto meritevoli di approfondimento, di recupero, in larghi tratti di restauro. Questo ha complicato la gestione del cantiere e oggi, nel giorno dell'anniversario del terremoto, era giusto fare anche questo atto di trasparenza, far conoscere attraverso gli organi di informazione, ai cittadini, qual è lo stato dell'arte, c'è una perizia di variante che si è ormai chiusa la negoziazione tra l'impresa e la direzione lavori, a breve verrà appunto sottoscritta e formalizzata, ripartiranno i lavori che entrano alla fine del 2025, riconsegneranno la sismicità, cioè verrà ripristinata la sicurezza sismica, la messa in sicurezza anche di tutti i corredi artistici e architettonici. Purtroppo per restituire alla funzionalità l'intero palazzo sarà necessario un nuovo finanziamento per il quale stiamo già all'opera e un nuovo lotto di lavori che completeranno l'intervento. Purtroppo è un palazzo così complesso, delicato e storico, necessita di cure e di attenzioni che sono per certi versi inevitabili e noi siamo qui anche per mostrare appunto la qualità del lavoro che si sta svolgendo e la complessità di questa opera di recupero. Lunedì io sarò a Bruxelles perché sono impegnato nel Comitato Europeo delle Regioni, martedì ho convocato la maggioranza, i partiti della maggioranza e della coalizione scioglieremo i nodi, mercoledì si va in aula e si inizia questo secondo mandato storico per l'Abruzzo e sono sicuro che tutti avranno la serietà e il senso di responsabilità di sapere cosa bisogna fare e come bisogna partire con il piede giusto. Grazie!